Buongiorno a tutti, siamo onorati di star qui a questo secondo pregato, adesso oggi con una delle semplici linux e basta. Ok, il nome è Eugenio Quarantronio, faccio il quarto informatico a DIVIS di Viderbo, e spero che lo stanno. Sono Adel, ho la musica rock, la birra della reazione. Se volete sfruttarmi sto su Twitter, è Eugenio, il discorso di sempre, oppure la mail è me, piaccia, amelesi.eu. Ok, io sono Giuseppe, sono del 93, di Canino, anch'io ho un regno da DIVIS, adesso studio sicurezza dei sistemi e reti sformati presso l'Università dell'Università di Milano. Sì, sono appassionato per produzione di sicurezza informatica, di elettronica, non si chiama DIVIS, ma io non sono simpatico come il genio, comunque se volete insultarmi qui sotto trovate le mie comunicazioni. Ok, mi chiamo la mia start della mattinata, cioè semplice, è nata per torba mia nel 2009, ho avuto 5 rilasci principali fino ad ora, dall'1 alla 5, è attualmente sviluppata da 3 persone, l'altra Lugas, Stamilano e io qui non c'è, è stata anche qua, è stata anche in Germania lo scorso anno, al Frosco nel 2012 appunto, c'era anche un sacco di birra, quindi è stata una grande esperienza, è stato il DistroWatch dal 2011, il DistroWatch è il sito più visitato da i minuziari cartinari come noi, e qui è stato un bel traguardo, dopo completarsi una quinta versione abbiamo quello tipo 13.000 download in una settimana, è abbastanza buono. Cominciamo dalle funzionalità principali, è basata sul Terpian Seed e a Roling Redies, questi due punti vi spiegheranno meglio Giuseppe successivamente. È sempre aggiornata, ha un basso consumo di risorse, è elegante, e supporta UEFI e 2M e 2M su DAX Out of the Box, questo significa che potreste dare semplice su anche le ultime macchine che non hanno più il BIOS, ma hanno l'EFI, e anche su partizioni grittale, quindi volendo potete mettere roba sconciata insomma, non se qualcuno ve per vendere al disc e bene ci sta dietro. Al contrario del tender è iniziato da varie distribuzioni, come un punto, così che crescano sempre di peso e entrano solamente in un DQD, semplicemente in un CD, quindi può essere anche eseguita sul macchino di QD, non dotata di un DQD, e con l'isoggetto è su D-Hub. Allora, questi sono gli archivi principali semplici, dal basso verso l'alto dobbiamo chiamano Debian Unstable, lo chiamano anche Silver, e praticamente sarebbe l'archivio base su cui semplice rende tutti i pacchetti principali che permettono la distribuzione di system funzionale. Praticamente Debian ha quattro line principali, che sono Stable Testing, Unstable e Experimental. Noi dirizziamo Stable, che appunto è un'archivio base, dove abbiamo fatto comunicato. Ah, e ogni mercato di Debian ha un coltname, praticamente, il nome del personaggio di... C'è stato. Esatto, esatto. Ad esempio abbiamo Seed, che sarebbe il bambino Mazzio, che è pronto il giocatore. E noi invece ad esempio abbiamo, come Quadenema, le canzette di WinFloid. Comunque, per questo è il centro. Abbiamo quindi il nostro archivio principale, Semplice Linux, dove Semplice prende le nostre applicazioni oppure le varie modifiche che abbiamo fatto, per esempio magari di Seed, o che non è una cosa che ha fatto. Mentre l'ultimo è il nostro programma di sviluppo. Qui praticamente abbiamo tutte le applicazioni e le configurazioni, mentre sono ancora in quattro di Seed, quindi non le nostre rilasciate. Una volta che viene rilasciato una nuova versione più semplice, ma che viene da spostare sull'archivio principale, e chiunque possa spiegare la versione più semplice. Semplice, è una distribuzione di roll-in-interroll-in-per-liz basata su Decker & Stateboard. Roll-in-interroll-in-per-liz non si mangia. Praticamente, le distribuzioni di roll-in-per-liz, tra le due distribuzioni, tra il busto, a rilascio continuo. Non c'è praticamente una versione chissà, non possiamo installare due snapshots che vanno a seconda del data del rilascio e della snapshot. Tra vantaggi e vantaggi di essere riduzi di distribuzione, abbiamo un peccadubbio, che possiamo installare una snapshot molto vecchia e fare un semplice aggiornamento con state le due lezioni. Quindi, per esempio, mettiamo semplice 4, un aggiornamento che possiamo installare la 5.1. Ok, di questo caso il sistema è sempre aggiornato. Questo comporta che gli anni di aggiornamento, comunque, sono un po' meno installi quando potrebbero installare una snapshot. da una versione installata potrebbero cambiare tutto il sistema. Poi, per questi modini, non sono distribuzioni a workstation e server, dove praticamente il sistema deve essere stabile e funzionante al 100%. Ok. Questa è una screenshot dell'ultima versione. è abbastanza pulita, senza iconi del desktop, anche se sono applicabili. C'è un pannello in basso, molto minimale, con un orologio, un handrail e eventuali applicazioni aperte. e al menu si accede con il pulsante dei testi del mouse. Quindi, in qualsiasi parte del desktop, premendo col desktop a fare il menu. Ok. Poi, ovviamente, oltre alle istituzioni in sé, abbiamo sviluppato alcuni programmi. Ad esempio, questo è il distaser, è il programma di installazione, appunto. L'ho scritto io, tipo, in due anni. E' abbastanza intuitivo, come dice la gente, a cui non abbiamo pagato. E' la barra principale, sopra, che cambia in base a come l'utente ha dato l'input. Quindi, se c'è qualche creatore, esce fuori rossa, se è possibile continuare il vertico, come in questo caso. E' modulare e ci daranno anche altre distribuzioni che lo useranno a parte di noi. Poi, questo è Alan, cioè il menu principale dinamico, che appare con il tasto destro e viene disegnato sempre al volo. Quindi, se c'è stata un'applicazione, esista viene direttamente sul menu. Mentre altre distribuzioni simili chiedono l'intervento dell'utente per mettere l'applicazione nel menu, appunto. Questo è il file, il nostro tool di configurazione per gli effetti grafici. Praticamente, questa applicazione consente di poter modificare, applicare gli effetti grafici sulla distribuzione del file di modificazione, senza dover andare a modificare il file di configurazione, ma non il mio. Comunque sia il file di configurazione che rimane modificato da chi lo vuole. Questa è la OneStrip, il nostro application viewer, novità dell'ultima versione. Praticamente, lo scopo di OneStrip è quello di poter eseguire applicazioni scritte e linguaggi di web, tipo Postmaster, come Html5, Javascript, di essere visualizzati praticamente come applicazioni in un sistema. Abbiamo anche, ad esempio, il MildoTelix, preso da Html5.com. In altra testa, ovviamente, potete vedere l'Iron, che si utilizza per corretire manualmente applicazioni web. Ok, quest'altro invece è Bricks, che è il nome che è Danone Brick in the Wall. È il gestore delle funzionalità di semplice. Cioè, noi con l'immagine Startup abbiamo diverse funzionalità, che non è detto servono a tutte. Ad esempio, il supporto Bluetooth sul PC desktop non ha quasi senso, a parte che chi ha i vari datatori. Quindi è possibile disapplicare le varie funzionalità in un click, sia in fase di installazione che fuori. Abbiamo anche altri progetti più piccoli, che sono tutti disponibili su gdub, c'è gdub.com slash semplice, c'è tutto il codice soggetto, eccetera. Ok, finiamo con una breve evoluzione, fatelo rimasto, con le immagini, tagli storiche. Questa è la prima release, la 1.0, con il name Rox, che non è da attendere come roccia, ma con il più bimbo picchioso, spacca. È ripensato nel 2010, e è molto diverso da quello che è semplice adesso. Basta. Questa è semplice 2, con il name Emily. È stata rilasciata dal genio a dicembre 2011. Questa volta non ci sono le ultime icone sul desktop. Comunque si arrivano attivati da direttamente. Abbiamo una preparazione di arti, di dinamico e anche di installer. Questa volta proviamo invece di grafica. Perché l'ho scritto io. Ok, andiamo avanti. Semplice 3, Pulse, dall'omonimo album live per David Floyd. Presenta il primo portante grafico, l'abbiamo visto in precedenza, l'installatore. E altri vari miglioramenti, la gestione della memoria, come il uso di tagli per DM, con un display manager, lo preasciamo di Gressiano. E il gestione della lingua. Che ho fatto? Ok. Questa è Adam McMuller. Non l'album, ma la parte semplice. Che comunque è il nome è stato l'album. È stata rilasciata dal genio a dicembre 2011. Qui inizia ad esserci un piccolo portantino. Comunque come noi, come novità abbiamo un nuovo Winster. Effetti grafici con i punti di configurazione che abbiamo visto prima. E il gestore delle funzionalità. Ok, questa è l'ultima. Speriamo solo per l'ora. iGOX. Mi riuscirà a settembre durante un devastante parti nella sua taverna. Ha l'intensità personalizzabili, supporto all'applicazione web e, come ho detto prima, anche il supporto EFI e al governo e al governo sull'AX. Intanto il pannello è stato disegnato. Detto ciò, non c'è le domande da fare. Insulti, eccetera. Siamo qua. Perfetto. In futuro, sì. Anche adesso non possiamo parlare in futuro. Perché, cioè, sentitele parlare di voi se non stiamo a zapparare. Quindi, speriamo. Comunque è il programma, è il oggetto. Come mai ti sei appassionato a Tifo Paio o a Tifo Paio, a Tifo Paio e a Tifo Paio e a Tifo Paio e a Tifo Paio e a Tifo Paio? Perché non c'ho niente da fare. No, seriamente. Da piccolo mi piacevano i sistemi operativi e queste cose qua, no? E ho cominciato ad analizzare con varie distribuzioni, con vari programmi per fare le mix di un punto, no? Anche se i risultati hanno veramente testing e poi ho detto che sono messo le punta e ho cominciato a fare qualcosa di più serio, diciamo. E da qui, anche per il fatto che il Debian Sit non ha una... non si può installare direttamente. Cioè, bisogna installare prima la stable, lo testing e poi fare l'upgrade. Mentre così semplice è possibile installare una sit in un quarto d'ora, diciamo, perché è già pre-postata. E qual è stata la più grande soddisfazione, la sorpresa? Qualcosa che non puoi aspettare? Ehm, fine 2011 un'azienda tedesca ci contatta e ci vuole spiegare in Germania l'estate scorsa. Pagato viaggio, hotel, eccetera. E rappresentarla là. È stato bello. Quindi è stato del tempo che siamo regalati? Sì, siamo, sì. Sì. Yes. Ok.